Sicuramente vi sarà capitato di vedere questa spia sul cruscotto della Yaris Ibrida, indica che la pressione degli pneumatici non è a posto. Per prima cosa controllate la pressione di tutti e quattro gli pneumatici e poi se ancora la spia non si è spenta seguitemi che vi mostro come resettarla. Dobbiamo andare a guardare sotto al cruscotto dove c'è il pedale del freno, scendiamo e guardiamo sotto. Troveremo questo piccolo pulsante con scritto SET e con l'icona dello pneumatico. Dobbiamo premerlo a motore acceso, eventualmente più di una volta e vedrete che la spia scompare. A buon rendere! Se questo video ti è stato utile metti mi piace e se vuoi iscriviti al mio canale e attiva la campanella per ricevere una notifica quando pubblico un nuovo filmato. Grazie!